Buongiorno Matteo Franciullo, Product Specialist Marketing di Yamaha Italia o sbaglio? C'è Emilio, si si, Product Marketing Specialist, molto più semplice al di là dei paroloni, mi occupo di prodotto e di marketing per la divisione Home Audio di Yamaha Music. Io ti saluto da, sono a Roma in questo momento, da un amico, da Garman, dobbiamo mettere a posto un po' di cose e poi avremo insieme un evento il prossimo 22 e 23 ottobre con BeQ, però ti chiamo perché so che alcuni prodotti Yamaha saranno presenti al prossimo Milano High Fidelity il sabato 16 e domenica 17 all'Hotel Melià. Noi saremo lì e volevo che mi raccontassi un po' quali e quanti prodotti dove trovarli lì al High Fidelity. Certo, allora sabato e domenica approfitteremo di questo bellissimo evento, insomma per ricominciare un po' a tornare a contatto con il pubblico, parteciperemo insieme a tre nostri rivenditori che sono Audio Quality, BVM Video Sell e Gemmati. Approfitteremo, dico approfitteremo perché fortunatamente siamo riusciti a portare a Milano ai Fidelity tutte le grandi novità che sono uscite ultimamente e con questo intendo tutta la serie di sinto amplificatori a ventaggio, quindi dall'RXA2A all'RXA8A, dopodiché, questo con Audio Quality, dopodiché nella sala di BVM Video Sell, finalmente è una delle poche volte che potremo fare una demo completa, ci sarà il giratischi GT5000, quindi il top di gamma flagship che dimostrerà Vittorio insieme a dei diffusori BV, adesso non ricordo esattamente quali porterà ma ci sarà un setup. L'abbiamo già detto, è un'anteprima assoluta perché sono gli 803D4, quindi sistema da pavimento con un impianto pazzesco perché ci sarà un controllo dell'acustica ambientale fisico ma anche elettronico grazie al player decoder processore audio Trinov con un DAC e un finale chord e poi appunto ci saranno i diffusori e anche qualche altra cosa interessante, quindi ci sarà anche il tuo giratischio. Sì sì, infatti siamo molto curiosi anche per tutto questo insomma equipment che tu hai accennato e sicuramente... E se si candida alla sala con il miglior suono della storia dell'Ai Fidelity. Sì, ma infatti per noi è un privilegio e un grande piacere partecipare a questo setup. Quindi saremo anche con BVM che farà una demo, Audio Quality invece farà un'esposizione statica, che è importante per chi vuole essere venire a vedere, ci sarà una demo a ventace, che però è molto probabile che potrà trovare nella sala di Gemmati un RX-A8A montato con un schermo Samsung probabilmente. Purtroppo siamo ancora work in progress e quindi non ho ancora la conferma precisa. L'allestimento c'è domani, io sono lì domani in tarda mattinata per aiutare. Magari ne siamo di più domani. Senti ma io ho saputo anche una cosa... Aspetta, con Gemmati e così termino la descrizione, avremo anche l'altra parte della serie 5000 pre-finale più l'amplificatore stereo AS3200, quindi saremo un po' con dei pezzi a 90. Oh wow! Quindi siamo molto contenti di essere riusciti. Senti, poi ho saputo una cosa, non so se mi darei conferma, io sarò il 5 novembre da Sound Image a Padova per un evento, probabilmente per un altro pezzo del roadshow che continua con Garman il 22-23 ottobre, poi il weekend successivo sarò a Padova e ho saputo che il supporto audio sarà... Nostro, ci sarò anche io. Ci sarai anche tu? Ah va bene, allora ci incontriamo lì da Padova, da Luca e sarà immagino anche a Milano all'Hotel Melià o no? Sì, sì certo. Allora ci incontriamo lì e poi ti coinvolgerò anche per un paio di progetti che stiamo realizzando. Vabbè Emilio, sai che noi siamo sempre aperti e felici di partecipare ai progetti belli, quindi sono sicuro che sarà uno di questi il tuo, quindi non ci deludere. E allora ci vediamo a Milano, io da domani sarò a me e a presto. A domani, a domani. Ciao! Grazie a tutti, ciao ciao!